Se vuoi organizzare la tua vacanza, scegli Trezza Travel, agenzie per viaggiare. Chiedi la consulenza di Trezza Travel, agenzie per viaggiare e vieni a trovarci in via Balzico 51, nei pressi degli uffici dell'Ausino. Normale dimenticanza o perdita della memoria? Con questa semplice domanda è partito lo screening preventivo gratuito per favorire la diagnosi precoce della demenza. Un'iniziativa promossa dall'equipe neuropsicologica del centro polifunzionale Gocce di Memoria in sinergia con il subambito S102 del piano di zona. La demenza non è una malattia specifica, bensì un termine generale che descrive una vasta gamma di sintomi associati al declino della memoria o di altre abilità del pensare sufficientemente grave da ridurre la capacità di una persona di svolgere le attività quotidiane. Il morbo di Alzheimer rappresenta il 60-80% dei casi, tuttavia vi sono molte altre condizioni che possono provocare sintomi di demenza, tra le quali alcune sono reversibili, quali ad esempio i problemi di tiroide e quelli dovuti a carenze vitaminiche. Molte forme di demenza sono progressive, vale a dire i sintomi si manifestano lentamente per poi peggiorare gradualmente. Una valutazione professionale potrebbe rilevare una condizione curabile e dunque alimentare quella prevenzione che il progetto intende diffondere tra la popolazione anziana, che nell'agronocerino rappresenta una grande percentuale dei cittadini residenti. Noi abbiamo iniziato stamattina con questa attività promossa dalla cooperativa Il Sollievo per lo screening delle funzioni di memoria e delle funzioni attentive di tutte quelle che sono le funzioni cognitive in generale come prevenzione della demenza senile. Oggi siamo qui ad Angri, il 4 a Corbara e poi continueremo con tutti i comuni non solo dell'ambito S102 ma anche degli altri ambiti, quindi dell'S103 e via dicendo. Sicuramente è un'attività fondamentale che promuove e promuoverà delle attività successive di potenziamento cognitivo in base alle problematiche che saranno riscontrate sul territorio. Diciamo che sarà anche un'attività di studio e di raccolta di dati perché lo stiamo facendo per valutare anche quali siano le difficoltà generali della popolazione anziana sul territorio in oggetto. Stamattina abbiamo avuto una risposta grandissima e anche abbastanza inaspettata e ci auguriamo come sarà sicuramente possibile e come sarà sicuro che anche gli altri comuni ci daranno questa risposta. Siamo qui per raccogliere chi ci verrà a trovare.